Concludiamo il nostro ragionamento su Marcel Duchamp affrontando rapidamente il suo capolavoro assoluto, una sorta di testamento ideale, considerando anche il fatto che l'artista utilizzò proprio questo dipinto, dipinto tra virgolette perché vedremo che è un oggetto abbastanza particolare, per mettere il punto sulla sua produzione, ordinare le sue idee sull'arte e concludere la sua attività artistica prima di dedicarsi agli scacchi, attività nella quale poi raggiunse risultati di grande prestigio arrivando alle Olimpiadi come capitano della squadra francese, anzi proviamo a fare un rapido escursus sui scacchi perché sentendo dire che Duchamp rinuncia all'arte per dedicarsi agli scacchi uno potrebbe anche pensare ad un ennesimo atto di rottura, di polemica, di provocazione dada. In realtà in Duchamp arte scacchi vanno posizionati più o meno sullo stesso piano, vedremo che Duchamp, lo stesso Duchamp dirà sono stato in stretto contatto con artisti e con giocatori di scacchi e sono arrivata alla conclusione personale che mentre non tutti gli artisti sono giocatori, tutti i giocatori di scacchi sono artisti di scacchi, per Duchamp sono un gioco di intuizione oltre che di intelletto e l'opera dello scacchista è sicuramente un'opera creativa, soprattutto nella ricerca di una strategia che coinvolge e tiene conto inevitabilmente della controparte. Il gioco è parte di un lavoro cerebrale, è parte di un lavoro intellettuale, la gran parte dell'arte di Duchamp si basa sulla ricerca, sull'esposizione dell'enigma, del problema da sciogliere, l'abbiamo visto nella scorsa lezione, dal gioco di parole alla ricostruzione di elementi simbolici attraverso un'opera costante di decontestualizzazione e ricontestualizzazione, e questo l'abbiamo proprio visto ampiamente soprattutto nella costruzione dei ready made. Anche in questo caso le parole proprio di Duchamp sono chiarissime, addirittura disarmanti, la bellezza degli scacchi, dice Duchamp, è più vicino a quella della poesia. I pezzi sono l'alfabeto stampato che dà una forma ai pensieri e questi pensieri, pur formando un disegno visivo sulla scacchiere, esprimono la loro bellezza astrattamente come una poesia. Ancora una volta, facendo questo collegamento, diciamo da un punto di vista assolutamente concettuale, noi vediamo proprio l'avvicinarci a grandi passi verso almeno l'idea dell'arte concettuale. Certo, in base a quanto abbiamo detto nella scorsa lezione, è chiaro, è evidente, si comprende in maniera molto semplice questa visione degli scacchi per Duchamp, visto che per Duchamp il significato più profondo della sua opera in campo artistico risiede fondamentalmente nell'idea, nel pensiero, nella concezione astratta, che predomina sempre rispetto all'esecuzione manuale, rispetto comunque ai problemi che riguardano la tecnica. L'arte di Duchamp è un'arte che riguarda evidentemente la materia grigia, una cosa che lui stesso afferma. Ecco, proviamo a cominciare a parlare ora di questa grande opera, diciamo conclusiva, che è la sposa messa a nudo dai suoi scapoli anche, altresì detta il grande vetro. A partire dal 1912, per circa un decennio, sino al 1923 per l'esattezza, Duchamp si dedica, parallelamente al resto della sua produzione artistica, per esempio ready-made, ma si dedica alla realizzazione e lavora, alla realizzazione di un'opera che intende evidentemente essere una summa della sua concezione artistica, nel senso più ampio del termine. Al termine del suo sforzo, quindi una volta completata, secondo lui, l'opera, nel 1923, proprio Duchamp, con uno simoro geniale che è tipico della sua ironia, definisce l'opera definitivamente incompiuta. Definitivamente incompiuta, che per lui significa l'importanza del caso nella realizzazione del dipinto, e soprattutto l'impossibilità di portare a termine qualcosa che per sua stessa ammissione si presta, anzi si deve prestare alle più varie interpretazioni in costante divenire. Quindi l'opera non può essere completamente conclusa. È conclusa, diciamo, dal suo punto di vista, ma rimane incompiuta dal punto di vista del mondo, potremmo dire. Il titolo stesso, che è così allusivo e contemporaneamente criptico, ricordo, La sposa messa a nudo dalle sue scapoli, virgola, anche, un titolo di questo tipo non basta sicuramente a definire il significato dell'opera. Anzi, semmai contribuisce a stabilire tutta una serie di chiavi di lettura diverse, secondo le parole dello stesso artista che dice Fra i miei titoli e i quadri si crea una tensione, i titoli non sono i quadri nel viceversa, ma l'uno agisce sull'altro. I titoli aggiungono una nuova dimensione, sono come colori nuovi o aggiunti, o meglio ancora, si possono paragonare alla lacca attraverso cui si può vedere e ingrandire il quadro. Quindi l'idea è proprio quella di aprire a campi semantici nuovi, allargare la possibilità di interpretazione. E infatti vedremo come in questo caso specifico Duchamp evita volutamente di chiarire il significato profondo del suo lavoro, che è una cosa che in parte ci può colpire. Noi abbiamo visto nella scorsa lezione come Duchamp non si fa problemi a rilasciare interviste, scrivere, parlare e dare una serie di interpretazioni parallele a quella fondamentale e principale, che è un'intenzione soprattutto di rottura ironica con la società circostante. In questo caso invece l'artista evita accuratamente di spiegare cosa intende con il suo lavoro, stimolando l'osservatore a proporre una visione sua originale, ad accettare la possibilità di interpretare l'opera e accettando lui stesso in prima persona ogni proposta che le venga fatta, ogni proposta di interpretazione, come è vera in sé. Come a dire che l'interpretazione, cioè l'idea che l'opera suscita anche la guarda, fa parte comunque dell'opera, indipendentemente da qual è l'interpretazione che viene data. Vedremo anzi che anche la scelta del supporto trasparente del vetro serve proprio ad aprire l'opera a un campo ideale, semantico, concettuale più vasto, perché ciò che ruota intorno al grande vetro, cioè ciò che gli gira intorno, ciò che gli sta intorno, diventa parte integrante dell'opera in un gioco infinito di trasformazioni possibili, perché evidentemente l'opera sarà collocata in un contesto e ci saranno persone e cose che cambiano nel corso del tempo e che li ruotano intorno. Il lavoro è formato, come vedete nell'immagine alla vostra destra, da due grandi pannelli rettangolari, per l'appunto in vetro, che sono disposti uno sopra l'altro e che sono uniti da una cornice d'acciaio che fa anche da supporto verticale, e tra i due vetri c'è la complessa figurazione, che è ottenuta con una tecnica mista, che utilizza il colore ad olio, comprende però anche vari altri tipi di vernice e comprende soprattutto fogli di lamina metallica, argento, rame e altri metalli, e soprattutto filo di piombo. Il filo di piombo serve a delineare la forma di questa specie di macchina oggetto alle quali poi è demandato il racconto. Un racconto che non è e non può essere chiaro e lineare, ma bisogna dire che se l'artista non dichiara mai le sue intenzioni, diciamo non dichiara la sua interpretazione dell'opera, è anche vero che poi nel 1934 realizza la cosiddetta boîte verte, la scatola verde, che non è altro che un contenitore verde appunto, in tiratura limitata, che contiene facsimile di tutti gli appunti, gli schizzi preparatori per la realizzazione del grande vetro e che documenta la gestazione dell'opera, che quindi come testimonianza, documentazione, opera, oggetto e libro può aiutare sicuramente all'interpretazione dell'opera, e che proprio come oggetto in sé anticipa una pratica che è quella, diciamo, degli appunti, la pubblicazione, diciamo, di appunti come altra opera d'arte indipendente, una pratica che poi diventerà tipica dell'arte concettuale proprio appunto a partire dagli anni Sessanta. Ecco, da questi appunti pare di poter intendere, di poter interpretare soprattutto l'opera in via generale come una riflessione sul desiderio erotico maschile, quindi il desiderio, la spinta, la pulsione sessuale stimolata dalla controparte femminile, e infatti l'opera è divisa in due aree ben definite, chiaramente distinte, dove il pannello in alto rappresenterebbe, a questo punto, il regno della sposa. Queste sono parole sue, l'idea del regno della sposa è qualcosa che ritorna nei suoi appunti, quindi l'oggetto del desiderio, mentre quello in basso metterebbe in scena proprio il desiderio stesso incarnato dai pretendenti, che sono i nove scapoli del titolo dell'opera, che attraverso un meccanismo di invenzione che è una specie di macchina inutile per riprendere quello che abbiamo detto nella scorsa lezione, cercano appunto di fecondarla dando continuazione al cerchio della vita. Quindi i nove scapoli tentano inutilmente, tra l'altro, di fecondare la sposa, ma l'idea è quella appunto della continuazione della vita, che è la stessa idea adombrata secondo le indicazioni dichiarate dallo stesso artista proprio nella ruota di bicicletta che è il suo primo ready-made. Ma diciamo che l'inizio, la gestazione del grande vetro comincia più o meno in contemporanea con la realizzazione del ready-made, quindi il fatto che ci siano dei punti di continuità e di collegamento è abbastanza chiaro e anche volendo prevedibile. Guardiamo il pannello alto, la parte superiore è la sposa, abbiamo il corpo meccanico della sposa che vedete in questa parte che è agganciato a questa specie di nuvola che l'artista chiama la via Lattea che non è altro che un'aura fluttuante suddivisa in tre quadrati bianchi irregolari che l'artista definisce enigmaticamente pistoni a corrente d'aria. Quindi i tre quadrati sono tre elementi fondamentali, vedremo che sono fondamentalmente il bersaglio che gli scapoli dovrebbero centrale per poter pensare di fecondare appunto la sposa che è invece la macchina che è appesa a questa sorta di nuvola fluttuante. Sotto la via Lattea alla destra dell'osservatore il vetro appare forato in nove punti che sono i nove spari che rappresentano il tentativo frustrato dei nuovi scapoli che sono i pretendenti di colpire il bersaglio e quindi di fecondare la sposa. Se guardiamo la parte inferiore cioè gli scapoli e il desiderio sessuale gli scapoli a loro volta evidentemente sono rappresentati e trovano posizione nella parte sinistra del vetro inferiore appunto e sono appesi a questo macchinario rotante e sono incarnati da nove sagome vuote quindi sono nove stampi fondamentalmente nove vestiti vuoti che incarnano diversi tipi di uniformi quindi abbiamo il prete, il fattorino, il gendarme, il corazziere, l'agente di polizia il becchino, l'uscere, il cameriere, il capo stazione come a voler indicare probabilmente proprio la complessità la totalità della comunità del mondo virile ciò che però risulta centrale quello che muove tutto quello che fa funzionare le ruote del meccanismo mettendo in moto le azioni degli uomini è proprio il desiderio quindi la macinatrice di cioccolata che è la metafora del desiderio della quale noi abbiamo già parlato nella precedente lezione il desiderio mette in moto gli scapoli attraverso una serie di setacci che vedete in alto e che selezionano in qualche modo filtrano i desideri e le azioni degli stessi scapoli producendo una serie di spruzzi, di getti che in questo caso si incarnano in quelle forme circolari che vedete alla destra della macinatrice che corrispondono poi agli spari rappresentati nel vetro soprastante anche in questo caso quindi c'è una continuità come una parte della ricerca che l'artista aveva portato avanti proprio tra il 13 e il 14 nella rappresentazione della macinatrice di cioccolato che incarnava in qualche modo la metafora del desiderio la pulsione erotica perché ovviamente chi rimane insensibile di fronte alla vetrina di un pasticcere come era successo a lui a Ruan dove aveva visto appunto questa macchina ora questa lettura erotico-sessuale apparentemente anche troppo facile non è l'unica lettura possibile cioè a questa lettura volutamente se ne sovrappongono altre che sono quelle infinite degli osservatori che ovviamente interpretano grazie alla loro diversa cultura alla preparazione, all'indole, alla sensibilità, al momento cioè l'interpretazione è un'interpretazione libera e produce evidentemente delle letture che vengono comunque ritenute tutte sempre e comunque valide dall'artista nella convinzione che l'interpretazione come il modificarsi del contesto per i ready made sia una parte integrante del percorso creativo cioè un percorso creativo definitivamente incompiuto come abbiamo visto che si può compiere cioè si può completare solo attraverso l'apporto esterno di chi guarda e questa è proprio una scelta programmatica dell'artista la complessità dell'opera oltre che nell'incompiutezza che viene dichiarata dall'artista nella difficoltà dell'interpretazione di queste macchine inutili nella libertà dell'interpretazione e nella complessità diciamo delle parti che compongono l'opera è resa evidente anche in una infinita molteplicità di riferimenti che noi non tratteremo nel dettaglio ma ci sono dei riferimenti anche colti che evidentemente per esempio sottendono alla struttura del doppio dipinto cioè l'idea per esempio della divisione in due parti due parti sovrapposte diciamo un sopra e un sotto che sono collegati ma che sono contemporaneamente avulsi l'uno dall'altro evidentemente è mutuata dallo studio del modello ideale della grande arte rinascimentale italiana che comunque fa da base diciamo così in qualche modo da citazione citabile per tutta la pittura occidentale e chiaramente mi riferisco da una parte alla vostra destra la trasfigurazione di Raffaello ma anche al tiziano dell'assunta dei Frari alla vostra sinistra e l'idea probabilmente è quella di creare una sorta di continuum storico con la produzione artistica tradizionale per sottolineare anche il valore eterno dell'arte col suo fluire attraverso il tempo anche senza voler necessariamente cercare un nesso che forse sarebbe troppo spinto ma che comunque da un certo punto di vista funziona tra la santità di Cristo da una parte soprattutto la santità della Vergine Assunta quindi la purezza della Vergine e questa figura meccanica della sposa di Duchamp che abbiamo visto nella parte alta anche in questo caso del grande vetro e che da un certo punto di vista è anch'essa sicuramente pura e libata perché gli spari degli scapole appunto sono andati a vuoto e quindi da un certo punto di vista si potrebbe creare anche questo collegamento è un collegamento sicuramente forte sicuramente molto molto spinto ma insieme alla programmazione di una struttura così complessa e non convenzionale Duchamp torna e insiste ad affermare in linea con l'estetica dada quello che è il valore fondamentale del caso e lo fa almeno in due modi in primo luogo lo fa attraverso un'azione volontaria e come fa? lascia semplicemente i vetri orizzontalmente cioè lavora a quest'opera delineando diciamo le figure col filo di piombo ma non dipingendole potremmo dire per dirlo in maniera molto semplice poi lascia per dei mesi questi pannelli questi vetri sul pavimento dello studio in modo che vi si accumuli in maniera casuale uno strato di polvere poi questo strato di polvere verrà fotografato su sua richiesta dal suo amico Man Ray che come vedremo è un altro dei protagonisti di Dada insieme a lui anche dei protagonisti del surrealismo che proprio a partire da questo contatto americano diventerà uno dei suoi più importanti collaboratori questa questa polvere verrà fotografata abbiamo detto e successivamente sarà incollata al vetro e quindi resa eterna come elemento fondante del vetro stesso una parte diciamo integrante dell'azione artistica però in questo senso noi dobbiamo anche notare ed è piuttosto facile questa è l'immagine della fotografia che proprio nell'intento di documentare l'accumulo casuale di questo soggetto che è la polvere un soggetto curioso imprendibile mutevole per definizione il binomio l'artista de Champ e il fotografo artista Man Ray evidentemente favorisce anche la realizzazione di un'altra opera d'arte che è quella che vedete che diciamo è un'opera d'arte indipendente rispetto alla realtà tangibile del grande vetro perché si manifesta proprio attraverso la riproduzione fotografica in quello che viene definito questo scatto viene definito allevamento di polvere uno scatto del 1920 che poi sarà pubblicato per la prima volta nel 22 sul giornale Surrealista e Literature e che sarà scambiato in quel caso in un primo momento con una ripresa aerea di una porzione di campagna americana soprattutto grazie a queste linee di filo di piombo che nel grande vetro delimitano i campi di colore della figurazione che invece in questo caso delimitano quelli che sembrano essere dei campi ma nel senso proprio dei campi coltivati degli estates quindi in questo caso abbiamo un'azione volontaria quella di lasciare il vetro volutamente a prendere la polvere per poter inserire la polvere che si accumula in maniera casuale all'interno dell'opera e quindi farlo diventare parte integrante dell'opera e quindi abbiamo un'azione volontaria orientata a testimoniare a documentare ma anche come al solito a distrarre a ironizzare a modificare il punto di vista per proporre nuovi orizzonti possibili però poi c'è una seconda azione un secondo luogo dove Duchamp torna ad affermare il valore fondamentale del caso ma questa volta come un evento del tutto fortuito e del tutto involontario siamo nel 1927 il grande vetro viene trasportato dallo studio dell'artista a un luogo dove deve essere esposto quindi nel raggiungere la sede dell'esposizione viene caricato su un camion sballottato nel cassone di questo camion e si rovina irrimediabilmente nel senso che si rompe il vetro quindi è facile che si possa rompere che si possa inclinare e si crea questo reticolo di inclinature che l'artista invece di restaurare invece di sostituire il vetro rotto con un altro supporto nuovo considera proprio questo intervento come una sorta di benedizione il caso che ha posto mano proprio da un punto di vista estetico non materiale all'opera con questo disegno frammentario con questa complessa ragnatela di cretti con questa moltiplicazione di linee fortuite che sono dovute alla texture stessa del piano e alla fragilità materiale del vetro che quindi diventano parte integrante dell'opera e non vengono corrette in qualche modo anzi diventeranno proprio uno delle fondamentali caratteristiche di quest'opera d'arte ecco come si è accennato all'inizio di questa lezione evidentemente la trasparenza del vetro la fragilità del vetro che si rompe ma soprattutto la sua trasparenza può essere interpretata come un desiderio di aprire il significato dell'opera al contesto circostante l'opera non è più limitata all'oggetto in sé partecipa di tutto ciò che in trasparenza lo circonda si muove nel suo ambiente e nell'immagine che vi propongo in questa slide per esempio si vede un maturo de champ con una modella all'epoca famosa Yves Babitz una foto scattata a Pasadena nel 1963 durante proprio una performance che a questo punto è il maturo de champ che è diventato uno scacchista infatti vedete che sta giocando a scacchi con la modella completamente nuda appunto l'artista realizza questa performance in occasione di una mostra retrospettiva delle sue opere mostra retrospettiva proprio che si chiama opere fatte da Marcel Duchamp o Rose Selavie Rose Selavie era uno dei tantissimi pseudonimi che l'artista aveva usato nella sua attività molteplice lui è appassionato anche di travestimenti dell'idea che una persona possa incarnare personaggi diversi e questa performance e quindi anche la foto viene descritta dalla critica come l'illustrazione del paradosso l'immagine degli infiniti contrasti quello tra gioventù e vecchiaia tra presente e passato tra pudicizia e nudità tra azione e contemplazione il contrasto tra esibizionismo e desiderio d'anonimato vi ho letto il testo critico dell'epoca e questi sono tutti elementi che presi necessariamente insieme al grande vetro che vedete sullo sfondo costituiscono altrettante chiavi di interpretazione anche per il grande vetro quindi il grande vetro partecipa dell'azione di chi sta facendo la performance in primo piano e complessivamente l'opera d'arte è come se assimilasse le figure che lo circondano e che stanno lavorando intorno a lui ecco la qualità del caso e la validità diciamo di ogni lettura proposta si pongono quindi come un valore aggiunto anche non si è più all'ironia della vita che trascorre che non lascia spazio all'eternità che poi corre parallela a questa generale tendenza all'ironia che è tipica di Duchamp sin da quando nel 1919 va in visita a New York una delle prime volte che si rete a New York e dona i coniugi Aresberg che erano grandi conoscitori d'arte erano formidabili collezionisti anche delle sue opere pensa di donarne un'ampolla contenente 50 centimetri cubici di area di Parigi che vi mostro in questa slide dalla destra vedete questa ampollina che contiene nell'area di Parigi ecco a partire da questo meccanismo mentale perché questo fondamentalmente è un procedimento mentale l'idea che qualsiasi cosa può cambiare significato in base al contesto al titolo che gli do all'uso che ne faccio o che ognuno di noi per esempio può incarnare infinite personalità basta pensare appunto ai numerosissimi pseudonimi che non è caso Duchamp assume lungo l'arco della sua carriera artistica quella che vedete nella slide la fotografia che vedete in alto a sinistra è proprio la fotografia che ancora una volta a Man Ray gli scatta proprio nei panni di Rose Selavie quello è per l'appunto Duchamp travestito da Rose Selavie ecco in questo senso ogni interpretazione di qualsiasi opera d'arte e figuriamoci poi di un'opera d'arte volutamente enigmatica come era il grande vetro che era programmaticamente enigmatica sin dal titolo ogni interpretazione è un'opera d'arte in generale e a questa in particolare è buona e deve essere necessariamente ritenuta buona perché bisogna pensare che l'interpretazione in sé è assolutamente relativa quindi è buona anche perché tanto non cambia niente e soprattutto è buona visto che siamo tutti destinati comunque a trascorrere a scomparire in quello che è l'enigma della vita e infatti Duchamp sottolinea questa questa idea della vita che trascorre con un gesto estremo di riflessione sull'idea della vita della morte dell'eternità ma soprattutto con un atteggiamento intriso di una ironia eccezionale sottile ma fantastica quando si fa scrivere come pitafio sulla sua tomba Ruan del resto a morire sono sempre gli altri giocando su questa sorta di indifferenza dei vivi che osservano il trapasso dei morti dall'esterno come se la cosa non li riguardasse come se il tempo e il destino riguardassero evidentemente soltanto colui che è morto oppure addirittura con un'azione ancora più dilompenta ancora più forte se ci pensiamo da un punto di vista simbolico con questa idea della scelta di lasciare un segno che Duchamp opera facendosi mettere portando nella tasca del vestito blu col quale fu messo nella bara una piccolissima chiave che viene ritrovata evidentemente tra le ceneri solo dopo la cremazione e questa piccola chiave che non può essere stata messa lì in maniera casuale conoscendo il soggetto conoscendo Duchamp il suo modo di pensare e le sue azioni evidentemente la chiave vuole indicare per l'ultima volta la necessità di continuare a cercare più che a trovare nuove chiavi di lettura infinite chiavi di lettura per interpretare il mistero della vita il mistero della morte e soprattutto il mistero dell'idea che è il punto centrale di tutta la produzione di Marcial Duchamp grazie a tutti Grazie a tutti